domenica 10 marzo autodromo da levante siamo qui con gli amici della driver pneumatici assistenza siamo con vincenzo d'azzeo della dazzeo pneumatici srl vediamo da bisceglie siamo presenti nella zona industriale abbiamo i suoi amici stradale che di racing siamo i partner principali di uz racing e spar ovviamente ci trovate direttamente anche sul sito ufficiale oz come per tutte le indicazioni sia della nostra posizione e gli altri contatti ci occupiamo sia del racing che del stradale come detto in precedenza come vedete trovate le prime collezioni di uz principalmente dedicate anche al motore al settore stradale e racing un nostro partner è anche michelin e soprattutto con questo modello con la sport cap 2 ad alte prestazioni dedicato sia per un uso stradale che che pista allora perché siete qui oggi però siamo oggi qua per un fantastico track day che grazie all'organizzazione grazie voglio ringraziare ivan pezzolla perché ci ha voluto io ho voluto anche a tutti i costi esserci e speriamo di trascorrere una fantastica giornata di motosport ho visto che c'è più o meno due zone una zona abarth e poi molte macchine giapponesi alfa romeo eccetera sì 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 infatti come posso come posso far vedere dedicata alle 500 e ovviamente sicuramente andranno anche loro in pista a divertirsi mentre dall'altra parte troviamo ovviamente un'auto sicuramente più stradali però sempre con quell'anima racing che ovviamente contraddistingue i track day ti ringrazio allora arrivederci qui all'autodoro del levante è solo un arrivederci sicuramente per il 30 e il 31 ne saremo presenti al trofeo del levante e spero di che veniate a trovarci nel nostro gazzebo ufficiale o zero mi autorizzi a pubblicare questo su Rolls of Fuglia? certo ti ringrazio ciao ciao ciao